Chi sono i miei nemici? Ne abbiamo di nemici? Che cosa li caratterizza? Che cosa li contraddistingue? Come riconosco i nemici? Partiamo dalla definizione, partiamo dall'essenza, quello che ci spiega il dizionario. Il nemico è qualcuno che si sforza di produrre danno agli altri, di produrre danno a me, quindi che cerca di farmi male, di procurarmi un danno. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. San José María Scrivada Balaguer scrive nei primi anni Sessanta una lettera pubblicata di recente nel volume 2, appunto, delle lettere da Ares, in cui scrive esattamente questo. Perché devo essere nemico di uno che non la pensa come me? Il rispetto nei confronti di qualunque persona e della sua libertà deve essere ancora più grande quando si discute di questioni opinabili. Purtroppo c'è negli uomini una tale tendenza al totalitarismo, alla tirannia, al fanatismo, che esaspera le opinioni personali, che non ci dobbiamo sforzare troppo per dare esempio ovunque di amore alla libertà di tutti. Mi sono sempre detto, come dovreste fare voi e insegnarlo agli altri, che se il Signore ha lasciato gli uomini liberi di pensarla come vogliono su tante cose, perché deve essere nemico uno che non la pensa diversamente da me? Perché io devo essere nemico di uno che la pensa diversamente da me? Se abbiamo idee diverse e lui mi convince, accetterò la sua opinione. Se lo convinco io, lui la penserà come me. Nessuno dei due convince l'altro? Potremmo sempre rispettarci, trattarci con benevolenza, convivere pacificamente. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte a chi si oppone a te. Dalla disputa violenta, dal contrasto, non viene alcuna luce perché la passione lo impedisce. Pertanto bisogna saper ascoltare l'interlocutore e parlare serenamente, sebbene talvolta ciò richieda uno sforzo interiore per dominarsi, un sacrificio meritorio. Interessante. Interessante questo spunto che ci invita a capire che ci sono degli ambiti sui quali è opportuno assumere una posizione anche potente, ma tanti altri su cui perché devo considerarti nemico? Perché se ancora oggi definiamo nemici chi non la pensa come noi, se io considero nemico chi non la pensa come me, mettendo insieme queste due cose, vuol dire che noi pretendiamo di credere, crediamo, abbiamo questa convinzione che chi non la pensa come me vuol fare il mio male. Chi non la pensa come me vuol farmi male. E questo è quello che realmente accade. La politically correctness ci ha condotto a questo livello che se tu la pensi in maniera diversa da me, allora vuoi il mio male, per cui sei il mio nemico, per cui io devo in qualche modo distruggerti negando il principio di partenza, che dovrebbe essere quello che ognuno è libero di pensarla come vuole, purché la pensi come me, tra parentesi. Che devastazione di logica c'è in un ragionamento come questo? Io mi devo sentire vittima nei tuoi confronti perché quello che tu pensi io lo vedo come un'aggressione al mio punto di vista, lo vedo come un'aggressione di fatto alla mia persona. E qui andiamo a sommare una serie infinita di errori su due fondamenti. Il fondamento è che io sono quello che penso, io sono il mio pensiero e quindi se tu la pensi diversamente da me mi attacchi. E soprattutto un ulteriore errore. Non c'è più qualcosa di opinabile e qualcosa di inattaccabile. 2 più 2 fa 4 è una verità. Il fatto che a me piaccia la minestra è opinabile. Che la minestra sia buona è un gusto. Oggi non c'è più questa distinzione. Sembrerebbe così. Tutto è apparentemente opinabile. Tutto in realtà però diventa verità assoluta. Nel momento in cui io percepisco che il tuo dissentire su questo punto per me diventa un'aggressione personale. E allora noi non cerchiamo più amicizie costruttive. Quelle amicizie nelle quali si può dissentire. Si dissente. Ci si prende anche a parole e ci si abbraccia. Perché si sa che l'amicizia è quel luogo dove si matura. Si sviluppano le idee. Si mette forza nelle proprie idee. Si impara magari a sostenerle contro il punto di vista dell'amico. E certo che se le discussioni nelle quali finiamo per entrare sono solo quelle scambiate con dei post aggressivi sui social diventa molto difficile anche capire cosa sia l'arte della discussione. Forse anche questo meriterebbe un altro cappuccino di approfondimento. Cosa vuol dire discutere? Cosa vuol dire disputare? Cosa vuol dire impegnarsi in un dibattito che non diventi violenza verbale? E soltanto questo. Nient'altro di più. L'amicizia è quel luogo dove pensare diversamente e di conseguenza ragionare insieme sulle diverse posizioni. Ragionare insieme sulle divergenze di opinioni. Perché queste divergenze di opinioni alla fine ci aiutano a essere più creativi, a essere capaci di volerci bene ancora di più. Non sembra essere questo il modo con cui oggi siamo portati a ragionare. Non sembra essere questo il modo con cui oggi viviamo la verità. Cioè siamo in grado di distinguere tra un'opinione qualcosa che è opinabile, che non è scritto in una verità assoluta e la verità assoluta. Abbiamo cominciato demolendo ogni forma di verità. La verità non esiste e quindi se la verità non esiste qualunque posizione dovrebbe essere possibile. Anche se non è così, non potrà mai essere così. Ma pretendiamo di crederci. Ci fa comodo crederci perché così ognuno può affermare di essere quello che è, quello che vuole essere, quello che pretende di essere, quello che pensa di essere senza che nessuno lo possa smentire perché non c'è una verità. Però poi nel momento in cui ci troviamo davanti a verità che non ci piacciono, verità che noi percepiamo come quelle di un nemico, cioè di qualcuno che vuol fare del male a noi, perché questa è la definizione di nemico, allora pretendiamo di decidere cosa sia la verità e cosa non sia la verità. Pretendiamo di escludere gli altri con un atteggiamento nazista, fascista, di coloro che vogliono imporre la propria verità sugli altri, con la forza, con la violenza, con qualunque tipo di violenza. Anche quella che apparentemente si possa esercitare in un tribunale. Ma sappiamo che le tirannie si avvalgono di leggi tiranniche, definite tali, con le quali difendono la propria posizione. Buon cappuccino a tutti! Grazie e alla prossima puntata! Grazie a tutti!